L'Unione fa la forza e l'Unione consente di superare gli ostacoli. È il caso della nuova iniziativa benefica di cui si è fatto interpretare Luca Antonini con la collaborazione di altri suoi colleghi pasticceri e con la collaborazione fondamentale di Global Pesca. Abbiamo avuto la possibilità di fare sinergia con tre pasticcerie, la mia pasticceria Zanardi, pasticceria Giolli e pasticceria Piazza Aldo di Nonio. In più la panetteria Gellera di Introini. Abbiamo fatto sinergia, abbiamo prodotto ben tre quintali di biscotti e tutto è stato possibile grazie a Global Pesca che ci ha fornito le materie prime. E invece un grosso applauso mi viene da farlo al supermercato Savoini e alla famiglia Savoini perché ha messo a disposizione i suoi sei supermercati per la distribuzione e commercializzazione dei biscotti. Il ricavato verrà utilizzato per fare altri eventi che andranno sempre a favore dei disabili. Inviteremo delle associazioni con i ragazzi disabili, offriremo a loro, a parte una giornata bella, solidale e sorridente, anche se si vuole legare la cosa, ma soprattutto far conoscere anche alle persone nostre, ai nostri ragazzi, che la volontà fa tanto. Infatti avremo Nicola Orlando, per esempio una tra tutte, che è una ragazza affetta da sindrome di Down, è stata a Tokyo e a Tokyo ha vinto ben quattro ori e ha fissato due record mondiali. Gli appuntamenti sono diversi, oltre questo ne avremo altri quattro, che sono legati al progetto Diversamente Dolce. Vi invito a seguire i social, così pubblicheremo man mano, perché adesso elencarli tutti penso che sia dispersivo.